Ciao a tutti da Elenor Studios, questo è Marco, mio nome è Lorenzo. Perfetto, oggi vi mostrerò, in caso di avere un Elenor Simdium trasmittore con il modem GSM built in, come configurare la configurazione del modem. Vero, Lorenzo? Perfetto. Prima di tutto, vi mostrerò che il trasmittore è collegato con l'antenne, con l'elettricità, il modem di controllo remoto è on, l'antenne, un kit per l'antenne con l'unità di trasmittore, che deve essere collegato sul lato. Poi puoi proseguire a cercare la carta del modem. Ok? Lorenzo, ora è il momento di lavorare. Ok. Quindi, dalla pagina web del trasmittore, devi registrare, con la pagina web del trasmittore, con il vostro trasmittore, con il vostro trasmittore con il vostro trasmittore. E come potete vedere, hai il signale del modem, ok, in questo lato blu. Failed. Musica 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 So from this page you will decide which kind of alarm you want to receive from your machine So for example we have set the GSM modem to send an SMS in case the unit goes off air. Now we have the transmitter on air let's put it on standby and we should receive the message from the unit Ok, so for today is done, I hope this tech pill will be useful for you and we say goodbye for the next episode Bye, thank you, ciao!